Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le informazioni di Macronews in pillole. Si sono svolti nei giorni scorsi i funerali del 52enne Pasquale Passero, l'uomo di cellule deceduto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale. Passero si trovava in sella alla sua bici quando è stato infestito da un'auto lungo la strada statale doviziana. Inutili tentativi di soccorrerlo, Passero è deceduto presso l'ospedale Cardarelli di Napoli. Ospedale San Rocco, disagi per i pazienti a causa della sospensione dell'attività del gruppo e il centro unico di prenotazione. Il vice direttore sanitario Antonino Passero assicura che quanto prima sarà ripristinato il servizio sospeso a causa dell'assenza per malattia dei suoi impiegati. Accertamenti idrici a cellule mentre gli utenti sono rivolte a causa degli avvisi di pagamento emessi dall'ufficio Tributi, il sindaco Guido Di Leone risponde alle critiche affermando che l'ufficio è stato gestito in maniera non regolare in passato ed ora si trova a dover far fronte alle conseguenti difficoltà. Ma gli organi preposti assicura molto presto indagheranno per accertare eventuali responsabilità. E' tragedia sfiorata nei giorni scorsi a cellule in via Milano dove un'auto parcheggiata ha preso fuoco ancora da accertare le cause dell'incendio. Tempestivo l'intervento degli agenti del comando di polizia municipale intervenuti per domare le fiamme. Tentativi di boicottaggio al comune di Sessarunca l'ex sindaco Silvio Sasso ha presentato un nuovo esposto in cui diffida l'ufficio protocollo dell'ente ad accertare dimissioni che non siano state protocollate personalmente da lui ed inviate tramite PEC. E restiamo a Sessarunca. Vicenda messi notificatori al comune. Il consigliere comunale Alberto Verreggia, membro della commissione trasparenza, segnala una serie di anomalie, soprattutto rispetto alle tempistiche delle domande presentate dai candidati che si sono poi aggiudicati la possibilità di seguire il corso rispetto a quelle degli esclusi. Sostegno alle famiglie meno ambienti. Il sindaco Lorenzo Di Orio e l'assessore alle politiche sociali Sabrina Izzo annunciano che è possibile ritirare i pacchi alimentari ed igiene fino al 15 aprile presso l'ex sede del comando di polizia municipale in Viale Trieste a Sessarunca. Ed anche a cellule il sindaco Guido Di Leone e l'assessore Antonietta Marcheggiano hanno deciso di erogare un contributo economico di 100 euro in occasione delle festività pasquali per ogni nucleo familiare. Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il 12 aprile. Cinghiali devastano gli uliveti nella trazione di San Castrese di Sessa Arunca. A lanciare l'allarme contro l'invasione degli animali selvatici sono proprio alcuni agricoltori, alcuni contadini della zona. Elezioni RSU presso il comune di Cellole. I nuovi rappresentanti sindacali del municipio sono Angelo Izzo, Angela Troisi e Pietro Sellitto. E concludiamo con Sessa Arunca. Presto anche la frazione di Maiano avrà l'acqua potabile. L'assessore ai lavori pubblici Italo Calenzo annuncia un intervento che consentirà di mettere in esercizio un nuovo pozzo. Il progetto è finanziato con i fondi in Cipe ed ammonta a circa 75 mila euro. È uno dei primi e gli importanti interventi che interesseranno tutte le frazioni di Sessa Arunca. E con questa notizia è tutto. Io vi ringrazio come sempre della vostra cortesia e attenzione. Vi ricordo che per ogni aggiornamento alle notizie o approfondimento alle notizie appena ascoltate basterà digitare il sito www.macronews.it. Grazie per averci seguito. Alla prossima.